Se mi avessero chiamata prima forse avrei rivisto il mio figlio anche solo per un secondo e abbiamo ricordato che i nostri figli si sono sciolti come la cera, nell'olio bollente. Mi dice suo figlio in fin di vita. La nostra agonia continua, sono dieci anni. Ricordo le urla, le urla di Tony e le urla di Giuseppe che gridavano non voglio morire. Le nostre vite sono state rovinate, le nostre famiglie sono state rovinate, loro sono morti, e io dico sempre che io sono morta a 49 anni insieme a mio figlio.